I cittadini attendono da 5 anni, oggi stanno assistendo alla riparazione delle strade a 7 giorni dal voto, un provvedimento che più che far piacere ai cittadini li irrita perché dimostra il disprezzo che questa amministrazione ha avuto per 5 anni potendo realizzare in un giorno quello che non è stato fatto in tutto questo lungo periodo. Noi invece lo faremo subito, daremo decoro urbano, manutenzione, pulizia e sicurezza nei primi 3 mesi. Poi metteremo mano alle 3 grandi questioni che riguardano la vita della comunità cosentina nei prossimi anni. Acqua, energia, rifiuti. Mapperemo la rete idrica per diminuire lo spreco del prodotto nel primo anno al 50% e ridurre quindi la bolletta proporzionalmente la bolletta dell'acqua. Metteremo il fotovoltaico sui tetti degli edifici pubblici in modo da azzerare completamente ed improvvisamente la bolletta dell'energia elettrica e daremo corso entro due anni nei primi due quartieri completamente alla raccolta differenziata porta a porta in modo da ridurre la bolletta da 350 euro a cittadino quante oggi ad 80-90 euro. Poi si darà a corso anche alle visioni complessive del progetto di città che deve avere un'amministrazione, una classe dirigente che vuole fare il proprio dovere. Grazie a tutti.